Due installazioni di mattonelle grenni che omaggiano il lavoro manuale delle donne hanno arricchito il centro storico di Rossano in Corso Garibaldi e il centro storico di Corigliano in Via Roma. I fili che uniscono è l'iniziativa dell'associazione Sosteniamo che con il patrocinio dell'amministrazione comunale ha coinvolto un centineo di donne nella tessitura a uncinetto delle coperte variopinte che sono state inserite nel grande intreccio retato, un atto di amore e di generosità per la città, una tradizione che si soleva tramandare di madre in figlia e che l'associazione tenta di non far dimenticare. Sono riuscita a contattare la signora che è stata artefice del progetto, ho voluto inserirmi perché ci ho creduto, ci ho creduto perché il lavoro artigianale è una cosa che non si dovrebbe dimenticare mai. E come bisogna fare per non dimenticare? Si può pensare ad aprire dei laboratori? Non lo so, però le associazioni ci stanno provando in tutti i modi. Questa iniziativa è carata in una città, oggi ancora divisa in parte in due, però Corigliano Rossano, qui in via Roma, Corigliano, qui in Corso Garibaldi. Sono stimolanti? Sono stimolanti e bisogna comunque crederci. Credere in quello che si progetta, credere che i giovani possano partecipare, ma soprattutto bisogna stimolarli. Faceva quel caldo bruttissimo all'olio e quindi ho lavorato di sera, tardi e anche di notte. Quindi anche la riscoperta dei valori, delle tradizioni di famiglia, quindi penso che questo sia un messaggio forte che vogliamo dare in modo tale da incentivarli. Colto l'occasione al volo anche perché è una passione, quindi mi sono trovata a fare anche io dei lavori per l'associazione. Speriamo ce ne siano altri, mi piacerebbe partecipare, sono molto contenta. Questa iniziativa si inserisce nelle attività dell'associazione che lavora per sensibilizzare ai temi dell'ambiente e del riciclo. Puntiamo molto alla rigenerazione anche dei tessuti perché non so se lo sapete ma i tessuti sono altamente inquinanti e scarsamente riciclabili. Per cui noi li abbiamo utilizzati, anche dei tessuti vecchi, gli abbiamo donato della nuova vita lavorandoli, trattandoli e poi questi tessuti andranno in beneficenza. Le due installazioni avvengono alla luce delle polemiche rinforzate in questi mesi estivi secondo le quali duplicare le iniziative tra le due aree urbane non è un bene al processo di fusione. Non ci interessano le polemiche divisive, noi lavoriamo per unire i due centri storici. Ora si pensa a decorare tutti i quartieri urbani con vari manufatti ai ferri e all'uncinetto per rendere la città più colorata ed elegante.